Ben ritrovato in questo nuovo episodio del vlog. Mauro Barbacci dovrei essere stato in montagna, in una forra a aereo freddo, invece no, sono a casa. Perché? Perché qui non smette più di piovere. Cioè non se ne può più, non se ne può, anche oggi non ha fatto altro che inverso. E c'è poco da fare, c'è anche l'emergenza maltempo in Umbria, quindi c'è veramente poco da fare. Allora ha deciso, va bene, mettiamoci un attimo seduti, ci vediamo con i nostri amici, invece che in studio di quanzo giorno, senza tante misericordie, è una cosa così in scioltezza insieme. Però volevo approfittarne per parlare di un argomento, perché, sia chiaro, con il tempo di questi giorni, le orchidee, quelle che abbiamo visto, abbiamo visto, forse riusciremo a vedere qualcos'altro, ma qui fondamentalmente ha fatto anche freddo, soprattutto la notte. Considerate solo che io abito un tempecino dell'Appennino Umbro Marchigiano, io ho le piantine del pomodoro così, alte così, gli amici miei che stanno a Perugia o a Gubbio già c'hanno i pomodorini, tanto per capirsi. C'hanno le piante già cresciute, le zucchine già cresciute. Io sono riuscito a seminare la roba domenica, quindi tre giorni fa, in una finestra di bel tempo, un giorno che comunque ha piovuto ora del pranzo, però in un giorno di una finestra, di una giornata di bel tempo, sono riuscito a piantare i pomodori e il gran turco. Al resto no. Però torniamo ad altro. Non è detto che ci saranno altre orchidee, altre fioriture, logicamente andremo in giro quando ce lo permetterà, in teoria da domani e dopo domani dovrebbe migliorare la situazione e se potrebbe tornare a uscire. Logicamente la prima cosa che faccio quando uscirò sarà andare a Rio Freddo. Punto. Stop. Perché? Perché iniziamo con la stagione del rullino, perché ce la fa per arte naturale e perché soprattutto io devo tornare a Rio Freddo. È un anno e mezzo, no oramai è più di un anno e mezzo che non vada a Rio Freddo. È dall'ottobre del 2021. È parecchio tempo e per me quel posto è eccezionale. Anche perché io per andare lì a registrare anche il podcast Rapporto Uomo Natura ho comprato un registratore apposito in più per fare diverse cose, il registratore che registra, le vedrete quando riuscirò ad andarci, se no ma rvendo tutto a sto giro, perché investo soldi per fare cose e poi non mi fa fare niente. Vabbè, a parte questo. Però che c'è? Qual è la cosa che volevo dire oggi? Noi che ci occupiamo di fotografia naturalistica, stiamo nella natura, anche le guide escursionistiche e quant'altro, mettiamo da parte il discorso scientifico del cambiamento climatico, non sono io che ho le competenze per parlare di queste cose, voglio parlare d'altro. Da persona che sta in mezzo alla natura, creare un archivio come un canale YouTube o un archivio fotografico, diventa importante perché anno dopo anno riusciamo a capire quanto veramente stiano cambiando alcune situazioni. Anche a livello fotografico, qui da me stanno è stato un problema, cioè se io voglio fare una foto mi devo mettere giù le buzze, c'è difficile fare anche una foto del paesaggio. Perché? Perché ti trovi in mezzo a situazioni meteorologiche un po' pericolosette, perché se consideriamo che una settimana fa su al Monte Catria, che è a due passi dalla vetta del Monte Cucco, c'è stato un temporale con dei fulmini e un branco dei cavalli, i fulmini li hanno fatto fuori tutti. Se al posto del branco dei cavalli c'è Mauro con uno zaino, con i treppiedi in carbonio, capite da voi gli altri quello che può succedere. Quindi o te piazzi lì per fare foto con i treppiedi in carbonio, metriano il giro di cinque minuti, non te il giro di mezza giornata ti arriva il temporale perché cambia il vento subito, pum, cambio vento, arrivo delle nuvole, temporale subito, quindi c'è spesso poco tempo di reazione, sei lì a fare il parafulmini, sei e insomma non è che da gusto ragazzi. E' questo che poi porta che anche la fotografia del paesaggio a sto punto viene messa da parte. Fotografia macro non ne parliamo, cioè se non c'ho i fiori, non c'ho gli insetti, non c'ho questo, non c'ho quell'altro, parlo del mio territorio, appennino ombro marchigiano, se mi trovo in difficoltà a trovare le cose, quello che ho potuto fare ve l'ho fatto vedere nei video. Poi è logico, mi metto a rifare la foto all'orchidea che io ho fatto le foto per dieci anni, mi interessa, preferisco invece un video, una documentazione diversa, quindi spostarsi anche e diventare documentaristi, non semplicemente il fotografo naturalista che va giù e fa la foto al fiorellino e a volte lo stacca pure e lo mette sulla posizione migliore, c'è anche questo da dire, o damo col ghiaccio spray agli insetti, quante ce ne stanno, cose che io non tollero, e però non devo cercare per forza la foto bella, posso anche essere un escursionista che sta girando con il telefono e documento, tac, 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 foto, video, foto, video, foto, video, per avere uno storico durante gli anni. Io questa cosa l'ho sempre fatta, per esempio c'è una serie di scatti di un bucaneve, sempre sullo stesso posto, tutti gli anni con le date diverse. So cose che possono essere documenti interessanti, possono diventare dei documenti proprio interessanti. e questo dobbiamo anche un attimo entrare in quest'ottica per migliorare quello che stiamo facendo. Quindi non è solo legato alla bellezza, la bellezza, me la do io con la fotografia, la bellezza già c'è la natura che è bella, quindi non so io che fa bella la natura, è la natura che è bella e io la fotografo, è in due cose diverse, perché io non miglioro la bellezza della natura, la documento al limite, in modo piuttosto che in altro, ma già è bella del suo, se io via senza macchina fotografica me la guardo, me la guardo in orchidea, già è bella del suo, a meno che dopo la raccolgo, la metto in un altro punto, con uno sponno migliore, è tutto perché quella è un altro par de' maniche, non ne voglio nemmeno parlare di queste cose, però ecco, forse è il caso di ragionare un attimo su questo e di rendersi conto come è cambiato tantissimo e foto che potevo fare l'anno scorso, già quest'anno non le posso fare, figuriamoci foto di dieci anni fa, quest'anno non le posso fare, come ciò, magari ciò cose in meno, ma altre cose che prima non si riuscirono a fare, adesso sì, bisogna valutare, io mi prenderei quest'anno come anno di prova, a parte per me è un anno dove sto ricominciando tutto, però è un anno di rodaggio per controllare tutto quanto, sta cosa che l'ho fatta anche, torniamo all'inizio del video, sull'orto, stanno ha deciso delle mosse da fare già da stanno per il prossimo anno, perché? Perché è cambiata da stanno, alcune situazioni sono cambiate da quest'anno qui, quindi stessa cosa la farò qui, nella fotografia, quindi vado, più facile che registro un video che faccio una foto, anche perché arriverà, serve tempo ragazzi per alcune cose, il documentario arriverà, però serve tanto tempo perché devo registrare, 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 poi montare, poi riregistrare, poi montare, riregistrare, cioè non è una cosa che esco così, tac, e è fatta, no, quello lì no, questo è un vlog, quello è un documentario, è una cosa di un altro tipo, anche perché su quel documentario andrò a chiedere anche fondi a livello locale, quindi è tutta un'altra storia, forse, perché De Principio il fa per conto mio, tanto è vero che sto mettendo da parte soldi ed energie per attrezzatura diversa, non più performante, ma più dinamica e energie, perché? Perché mi invecchio io ragazzi, non è che mi ringiovanisco, magari sono nevergreen, però si vede insomma che mi invecchio e come diventa bianca la barba, anche le braccia e le gambe si affaticano un po' di più, soprattutto quando parti con 40 kg di zaino, quindi c'è da lavorare su tanti fronti, c'è da lavorare, però con una concezione diversa, e questo periodo di maltempo lo sto sfruttando proprio per questa cosa qui, per metter in fila diverse cose, perché tanto comunque non mi farebbe uscire, c'è inutile che io oggi uscivo per andare in luoghi dove rischio che mi arriva in sasson testa o dove prendo un fulmine, sarei un coglione, sarei, ma semplicemente un coglione, esiste la parola, sono un coglione se faccio questo, quindi se mi metto a rischio perché fa, per fare una foto o un video su YouTube, l'ho fatto in passato, sono stato un palmo dalla bocca di un coccodrillo a scattare le foto, c'è il video sul canale, dopo valla cerca a Cuba, l'ho fatto, ho messo a rischio me stesso per quelle foto, serve ad oggi? Dopo che l'ho già fatto, vi dico serve? Non serve a niente, non serve assolutamente a niente, perché? Semplicemente perché diventare i più bravi del cimitero è come diventare i più ricchi del cimitero, non serve a niente, quindi ci siamo capiti. Va bene, detto questo, se è vero che la prossima settimana il meteo migliora, andiamo finalmente a Rio Freddo, e come vi avevo già annunciato, ci saranno dei video a Rio Freddo dove non sarò solo e saranno molto interessanti, molto, ma molto, ma molto interessanti. Comunque in tutto ciò io sto lavorando insieme alla mia compagna anche per un'importante raccolta fondi per il magico mondo di Melania, qui per il territorio, ma adesso non vi dico niente, tanto registreremo altri video con Erika e li caricheremo sul canale, invece quello sì, iscrivetevi qui al canale e in descrizione trovate anche il link al canale il magico mondo di Melania, andate ed iscrivetevi perché è molto importante, anche solo con iscrizione, sostenete la nostra associazione, sostenete. Quindi ragazzi, è stato un piacere come sempre, ci siamo fatti quattro chiacchiere e ci vediamo molto presto, ciao! Grazie! 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 Grazie!